GF VIP, Davide Donadei, sono molto soddisfatto persona in cui mi sono trasformato. Davide Donadei, extronista di Uomini e Donne, ha terminato il suo percorso al Grande Fratello VIP. Durante la puntata di giovedì 9 marzo, l'uscita improvvisa del giovane pugliese ha deluso molti dei fan delle reality show di Canale 5. Ignari che l'extronista potesse terminare la sua esperienza dopo tre mesi dall'ingresso. Nei giorni scorsi, Davide ha dedicato un post molto sentito alla sua famiglia. In particolare a sua madre, sul suo profilo ufficiale Instagram, poi ha pubblicato una storia dove ha ringraziato il Grande Fratello e ha raccontato in breve la sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà. Davide Donadei ha terminato il suo percorso all'interno della casa giovedì 9 marzo e prima di ritornare alla sua vita normale ha voluto dedicare un post alla sua famiglia e a sua madre. Nel quale ha confessato di aver sentito molto la loro mancanza e di aver imparato diverse cose all'interno della casa, ho capito molte cose. Ho avuto modo di rallentare e finalmente ho compreso l'importanza del tempo, una delle poche cose che non possiamo mai gestire completamente. Poi ha aggiunto, cercherò di trovare un equilibrio per stare bene e gestire al meglio la mia vita. passando più tempo con la mia famiglia e con le persone a cui tengo. Affrettiamoci ad amare. Dalle parole di Davide si evince quindi che l'esperienza del Grande Fratello sia stata molto positiva per lui. Davide Donadei, nelle ore scorse, ha pubblicato anche una storia sul suo profilo Instagram. Dove ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza durata tre mesi e ha confessato di essere molto grato al Grande Fratello. Inoltre, il giovane pugliese ha scritto di aver trascorso dei mesi molto intensi e di aver sperimentato giorni difficili. Ma anche meravigliosi. Sempre nella storia, Donadei ha spiegato di aver imparato molte cose all'interno della casa. Sia su se stesso, che sulla vita in generale e di essere molto felice, sono soddisfatto dell'esperienza che ho vissuto e della persona in cui mi sono trasformato. Subito dopo l'eliminazione, dunque, Davide è tornato alla sua vita di sempre. Come ha confermato anche lui stesso con un altro post Instagram, dove è apparso nella cucina del suo ristorante in Puglia. Pronto a rimettersi in gioco con il proprio lavoro. Inoltre, sempre su Instagram, nelle ultime ore Davide Donadei ha mostrato la sua solidarietà verso le concorrenti Antonella e Nikita e ha incitato i fan a votare per loro. Stai plin de dude, dumele tante printre talea culte. Incerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo. Grasul, nimeni altul, Delvede sau Carpo. Trebuie să depășesc